L'importante è che la squadra continui a lavorare bene e che prima o poi i risultati cominciano a venire anche nel fine settimana e questo si vede già da queste partite. Mi ha fatto piacere, vuol dire che ha già abbastanza fiducia in me e per questa partita è andata bene. È stato molto bello anche perché era molto freddo e quindi sono stati ripagati dalla fatica che hanno fatto a venire qui. Sono entrato, visto che la mia squadra ha bisogno di cambiamento, sono entrato con tanta voglia, con tanta grinta, con tanta fame. Quella palla con le provate sono tirato, sapevo che entra perché ho bisogno di un momento molto importante per me dopo la partita contro la Juve e speriamo di continuare così. Sì, ho fatto un gol importante, ho giocato abbastanza bene, è un importante risultato, è importante che Bologna sia passata avanti il turno in Coppa Italia. Sono importante per me che sono in Serie A, dove sono venuto da Bologna, sapevo che ci sono tanti giocatori sul mio ruolo, però io sono un giocatore che aspetto la mia opportunità giusta e posso imparare sicuramente di questi grandi campioni come sono Viviano, Portanova, Divaio, Muddingai, Perez. Ogni allenamento se guardi loro puoi imparare sicuramente tantissimo. Sì, io sono contento, ogni minuto quando ho giocato io ho fatto il mio massimo, queste cose sono importanti. Alla fine il mister è quello che decide, io quando entro faccio il mio massimo, quando gioco da titolare faccio il mio massimo, queste cose sono importanti. La palla mi è arrivata, io ho tirato e la palla è entrata, è importante, ma non è importante chi ha fatto il gol, è importante, ripeto ancora una volta che Bologna è passata il turno. Quando sono arrivato in Italia non ho mai fatto il gol, questo è il mio primo gol in Italia in maglia di Bologna. Anche l'anno scorso con l'Atalanta ti tiravo sempre fuori l'aria e i portieri paravano. Ho detto magari un giorno quando serviva di più entra una palla e penso che questo momento sia stato giusto, abbiamo pareggiato e alla fine abbiamo vinto. Grazie a tutti.